Stassate contro la vetrata della barra che vedete alle mie spalle, ci troviamo a pochi passi dalla stazione di Arezzo, una raida vandalico, forse un tentativo di furto nell'ultimo giorno di apertura alla pubblico che fortunatamente si è concluso con quattro denunce. È successo infatti lunedì sera dopo le 22, orario in cui scatta il coprifuoco. Ad allertare le forze dell'ordine, un residente che insospettito dai forti rumori ha chiamato il 112. I carabinieri sono così accorsi sul posto ed hanno individuato e fermato praticamente subito i responsabili del gesto. Si tratta di quattro uomini nordafricani con età dai 30 ai 35 anni, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio e droga, che sono stati quindi denunciati per danneggiamento aggravato. Sono stati poi anche sanzionati per non aver rispettato l'obbligo di stare a casa dalle 22 alle 5 previsto dalla normativa anti-covid. Sono grato a chi ha fatto la telefonata perché è stato tempestivo e insomma si è risolto parte il danno, però bene, non sono entrati. Non si tratta purtroppo della prima volta che il bar finisce nelle mire dei malviventi. Nell'ottobre 2019 i ladri riuscirono infatti a portare via il registratore di cassa dopo un raid notturno. Lo scorso gennaio un altro colpo fortunatamente a vuoto perché il responsabile fu subito arrestato ed adesso un nuovo amaro risveglio per i proprietari, proprio nell'ultimo giorno di apertura al pubblico. Ancora più danneggiati, oltre il lavoro, anche i danni fisici al locale. Non ci si arrende però, vediamo qui avete messo un tavolino e si prosegue. Certo, 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 si continua, si dura però si insiste.